Sono stati minuti di paura quelli vissuti stamattina da due dipendenti della farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Intorno alle 12 e 30 un uomo alto circa un metro e ottante con il volto coperto da un berretto invernale e uno scaldacollo si è introdotto all'interno dello stabile con un cacciavite in mano. Di scatto si è avvicinato verso una di loro che in quel momento era sola dietro al balcone e poi puntandole l'arma contundente le ha ordinato di aprire la cassa di consegnare tutto il danaro. Non soddisfatto l'ha intimata di aprire il secondo cassetto che era vuoto e di portarlo alla cassaforte vicino al magazzino dove si trovava la collega. Il rapinatore che secondo le vittime era un italiano prima di scappare con un bottino di qualche centinaia di euro le ha chiusa a chiave dentro il bagno. A quel punto hanno iniziato a gridare per fortuna poco dopo un cliente che era entrato in farmacia ha sentito le grida ed è andato in loro soccorso. Chiamate le forze dell'ordine le donne illese hanno sporto denuncia. Ora sul caso indaga la polizia di Fano.